Chi è Baron Samedi? Baron Samedi è una divinità del Pantheon Voodoo, è il signore che traghetta le anime dei morti. Se siete ad un sabato sera, ad un crocicchio ed incontrate un elegante signore di colore, con un cappello a cilindro, degli occhiali da sole, state molto attenti a quello che gli promettete e soprattutto a quello che desiderate. Questo è il romanzo che ho pubblicato nel 2009, che si chiama appunto Il contratto di Baron Samedi, che vi porterà in Kenya, in Brasile, a Zanzibar e nella mia amatissima a Milano. È un libro che nasce da una frase che senti dire da una persona di cui non ricordo ancora il nome, che disse Nonno Dio e mi chiesi chi può dire una frase tanto particolare e mi venne in mente un africano, un africano anziano con delle profonde conoscenze magiche e nacque uno dei protagonisti, il signor Mugumbu, che è quello che accompagnerà la vera protagonista, una fermata fotografa milanese, a tornare a casa, dove da quella casa è scappata anni prima per un pesantissimo segreto. È costretta a tornarci perché dovrà presenziare al funerale dei suoi genitori, per scoprire nella città meneghina che legato al suo patrimonio familiare c'è una scia di morti inspiegabili che si susseguono in modo molto misterioso. La donna capirà che per salvarsi dal male dovrà usare le sue stesse armi e i suoi stessi mezzi. Il contratto di Baron Samedi è potente e questo libro ve lo dimostrerà. Buona lettura.